Un buon motivo per votare privi alle provinciali del 6 e del 7 giugno? Penso, primo perché abbiamo fatto concretamente in questi cinque anni tante cose, cercando di guardare non alle appartenenze, alle ideologie, ma un po' al bene di questo territorio. Pensiamo, e ci tengo a dirlo, che la squadra mia, se vincerà, sarà una squadra che su questa giacca non ha simboli di partito, ma avrà simbolo dell'istituzione e cercherà di fare il bene del territorio indipendentemente dai colori. Non abbiamo bisogno di grandi padrini politici, abbiamo bisogno di avere passione e voglia di impegnarci per il nostro territorio.